La Ginestra è un poema di 317 versi e indecasillabi sciolti, suddivisi in sette strofe, composto da Leopardi negli ultimi anni della sua vita e considerato il suo testamento spirituale, la summa del suo pensiero filosofico e poetico. Leopardi scrisse la Ginestra durante il soggiorno napoletano presso Torre del Greco, ospite della magnifica villa dei Conti Ferrigni, dalla quale poteva godere di una splendida vista sul mare e sul monte Vesuvio. Io credo che Napoli abbia rappresentato soprattutto una percezione del mondo diversa a contatto con i radicali della vita. Innanzitutto il Vesuvio, questa montagna piena di fuoco distruttore, che per Leopardi incarnava proprio la natura, quindi la natura nella sua capacità di creare ma anche di distruggere. L'uomo è simbolo nevralgico della modernità. Il Vesuvio è il dominio della natura, di una natura che qui, sprezzante, esercita il suo potere più terrifico. A dispetto dei suoi 17.000 anni di vita il Vesuvio continua a parlare, continua a raccontare. I racconti sono tantissimi, le narrazioni sono tantissime, perché era questa una delle tappe obbligate del Grand Tour in Europa e soprattutto in Italia, dei rampolli delle classi dominanti, delle future classi dirigenti nel 500, nel 600 e più ancora nel 700 e nell'800. Improvvisamente l'800 che cosa scopre? Scopre che l'Italia non è solo antichità, è natura, una natura possente che si rende e si manifesta, dietro la natura si nasconde Dio, diceva Goethe, si manifesta in tutto il suo potere terrifico appunto proprio con il Vesuvio. Quando Leopardi fa questo inconsueto viaggio a Napoli, Napoli e il Vesuvio erano già patrimonio dell'umanità, se potremmo dirlo con una formula contemporanea e forse anche un patrimonio letterario. Molti hanno descritto luoghi che non hanno mai veramente visitato. Ecco, questo racconto del Vesuvio Leopardi lo capovolge, in qualche modo il Vesuvio diventa invece il frutto più evidente della sua filosofia. Qui vieni, qui ti specchia, sei col superbo e sciocco, vieni qui, vieni qui. Questi racconti di viaggio vengono sempre pubblicati molti anni dopo rispetto al viaggio fisico. C'è quasi oserei dire una retorica della distanza temporale. Per cui, ecco, Goethe scrive 30 anni dopo, Stendhal, Chateaubriand, scrivono tutti molto tempo dopo rispetto al loro viaggio fisico. Leopardi no, Leopardi scrive in diretta e scrive qui, sull'arida sponda, qui, qui e ora. Leopardi scrive qui e ora su questo Vesuvio e trova nel Vesuvio appunto la prova per questa fierissima requisitoria contro questo secol superbo e sciocco che inneggia le magnifiche sorti e progressive dell'umanità. Ecco perché questo è un nodo nevralgico della modernità, perché qui è la dimostrazione evidente e lampante delle miserie delle cose umane.